E' alle porte il IV Cogresso Nazionale di Meritocrazia Italia che si terrà a Roma nei giorni 20 e 21 ottobre 2022. Meritocrazia Italia è un'associazione socio-culturale operante da qualche anno sul territorio nazionale che cerca di dare voce alle X per superare la disaffezione e la disillusione dei cittadini nei confronti delle istituzioni e della politica puntando sul merito e sull'equità sociale. Il confronto al quale prenderanno parte dirigenti DMI, ospiti illustri anche del panorama internazionale, rappresentanti di tutte le forze politiche, studiosi, professionisti ed istituzioni, avrà ad oggetto il ruolo riservato al cittadino nell'azione politica e sarà volto ad indagare le ragioni del fallimento della politica del mero consenso e a far emergere l'utilità della diffusione della cultura della partecipazione. L'obiettivo sarà avviare una riflessione condivisa sulle strategie possibili per il ripristino di un benessere collettivo e di un'equa distribuzione delle opportunità, facendo il punto sulle reali priorità. Nella mattinata di venerdì 21 si terrà la prima sessione sulla cultura della partecipazione e nel pomeriggio il dibattito riguarderà il programma di governo La politica della stabilità. A margine delle due sessioni, in due distinti corner tematici, sarà rivolta attenzione al problema della necessaria valorizzazione delle forme di energia non distruttiva e quello dell'incidenza dei nuovi mezzi di comunicazione sulle dinamiche relazionali e lavorative. Sabato 22 verrà presentata la mozione congressuale di Meritocrazia Italia e saranno condivise le intenzioni programmatiche di coordinamenti regionali e di ministeri e mei per il prossimo anno. L'evento naturalmente sarà trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook l'Italia che merita. Vi aspettiamo numerosi!